lunedì 5 agosto 2019 buongiorno ben trovati ai telespettatori di tele nostra e prima tv rassegna stampa flash diamo subito uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani locali e nazionali i temi del giorno l'agenda della settimana con la prima pagina del mattino di Avellino andiamo a vedere in primo piano c'è il concorso per l'assunzione di 50 autisti nell'azienda Trasporti AER la presentazione in mattinata con il governatore De Luca del nuovo bando e il presidente della commissione regionale Trasporti Luca Cascone che dice non è una mossa elettorale naturalmente lo sport c'è grande attenzione per le sorti del calcio Morero e di Paolo Antonio in bilico i due hanno avuto un'offerta dal Taranto piove sul bagnato in casa Avellino con i giocatori di cui si era certi che potrebbero accasarsi altrove città sostenibile sprint del comune per i finanziamenti l'assessore di Falco firma oggi in regione l'accordo arriveranno 6 milioni in più a cosa serviranno lo vedremo tra poco andando a spulciare all'interno delle pagine del mattino ma sicuramente il recupero della casa della cultura Victor Hugo è tra i progetti ammissibili a finanziamento incendi domenica di fuoco tre denunce dei carabinieri e 20 ettari andati in fumo nell'intera provincia di Avellino per lo più si tratta di Bosco i controlli nel carcere di Bellizzi altri due microcellulari e poi la politica gli approfondimenti e le previsioni a cura di Vincenzo Capozzi nella rubrica il grigio e il blu settimana calda con picchi di 36 gradi lasciamo per il momento il mattino di Avellino andiamo a vedere l'apertura del quotidiano del sud con una intervista a Maraia che dice regione nemica così il deputato 5 stelle sanità si specula sulla pelle dei cittadini fallimento dei consiglieri PD roghi 20 ettari in fumo in una sola giornata è il tema che campeggia a più riprese sui quotidiani locali per il calcio ancora qui si parla invece di arrivi è il caso di Rossetti mentre tiene banco ancora la vicenda di cronaca che riguarda il carcere di Bellizzi Irpino altri quattro telefonini scoperti nelle celle si parla di circa 40 microcellulari scoperti dagli agenti della polizia penitenziaria dall'inizio dell'anno all'interno della casa circondariale ricercato bloccato dai carabinieri accade a Montella a bruciamenti scattano tre denunci a Monteforte Irpino Valle dell'Irno Valle dell'Irno Esodo auto in fiamme sul raccordo Avellino Salerno lasciamo per il momento i quotidiani locali andiamo a dare uno sguardo subito alle prime pagine nazionali con il mattino il governo alla prova del voto sarà una settimana importante questa il disegno di sicurezza Salvini va alla conta siamo stufi degli attacchi da Di Maio e Di Battista poi l'affondo sull'autonomia i veri nemici sono alcuni politici ladri del mezzogiorno così Salvini che ha fatto riferimento anche ai soldi che la regione Campania spende nel rimborso per far curare fuori negli ospedali della Lombardia i cittadini campani il tema dell'autonomia è destinato ad infiammare questa estate sul piano nazionale e anche sul piano locale Costa nel piano terra dei fuochi il Viminale non ha fatto la sua parte è la pesante accusa da parte del ministro dell'ambiente Costa che al mattino dice mancano i controlli necessari i controlli vanno aumentati e tocca al vice premier quindi ancora tensione nel governo con botta e risposta se vogliamo anche in questo caso tra Lega e Movimento 5 Stelle e l'accusa dal ministro dell'ambiente contro Salvini Porto di Napoli l'appalto gonfiato del 37% l'ultima verifica firmata da Cantone lavori alla darsena da 85 a 118 milioni il decreto vertenza Whirlpool pronti 10 milioni per salvare Napoli la vertenza mercoledì arriva in consiglio dei ministri prevista la norma volta a concretizzare quegli incentivi all'azienda che erano stati già annunciati bisognerà dunque passare dalle parole ai fatti e proseguiamo con la rassegna qui siamo all'inserto del quotidiano del sud con uno speciale dedicato al tema del razzismo il razzismo sicura viaggiando i giovani hanno le idee chiare non bisogna fare qualcosa per i migranti ma qualcosa con i migranti aiutiamoli anche a casa loro siamo tutti stranieri e vediamo invece che cosa accade nella vicina Benevento tragedia in mare muore diciottenne Claudio Monteano era in vacanza a Scauri fatale un tuffo dopo un pasto il giovane di Bucciano aveva frequentato l'asilo in paese prima di tornare in Romania annullati tutti gli eventi estivi polemiche sui finanziamenti della regione edilizia ospedaliera sannio bistrattato io per Benevento attacca PD e mortaruolo sicurezza bis la lega replica alla diocesi e poi abbiamo il calcio Benevento bagno di folla al rientro coppa sfida al Monza di Berlusconi per i giallorossi intanto c'è stato l'adeguamento dello stadio che potrà ospitare anche eventi UEFA lasciamo il sannio siamo sulla prima pagina del giornale sinistra drogata di Salvini ossessione papete i radical chic senza idee alimentano il potere del vice premier perché rilanciano ogni sua parola e fanno il suo gioco così Vittorio Macioce perché votiamo se poi fanno quel che vogliono è il fondo di Alessandro Sallusti a proposito della truffa in Parlamento nessuna corrispondenza tra quanto promesso in campagna elettorale e quanto realizzato è l'affondo evidentemente al Movimento 5 Stelle cambiamo giornale ed evidentemente cambia anche la linea editoriale il gatto pardo si tiene i vitalizi a segni da 5.000 euro al mese per gli ex deputati in barba alla legge si parla della regione Sicilia l'assemblea va in ferie senza il ricalcolo imposto dalla riforma caro Berlusconi fai come Bill Gates crea una fondazione l'intervista a Paolo Del Debbio ex ideologo di Forza Italia il consiglio dei ministri di mercoledì dovrebbe varare il decreto di maio sui rider mix tra paga oraria e cottimo tutela assicurativa e rimborsi ogni tanto una buona notizia dice il fatto quotidiano e poi ancora il decreto sui prof precari fa litigare Bussetti e il Movimento 5 Stelle il provvedimento del ministro dell'istruzione che mette in ruolo i docenti con tre anni di precariato alle spalle non piace ai 5 Stelle che denunciano disparità di trattamento fra diverse categorie e una penalizzazione dei giovani neolaureati lasciamo il fatto quotidiano andiamo a vedere la prima di Repubblica USA USA le stragi dell'uomo bianco due killer giovanissimi e solitari fanno 29 morti e oltre 50 feriti il proclama prima dell'assalto a El Paso fermiamo l'invasione ispanica manovra ecco il piano segreto di Tria più rigore nella bozza le misure chieste dall'Europa il rapporto deficit-pill sotto l'1% e l'analisi politica che incrocia le cronache delle spiagge Salvini Bicetur per sedurre il Sud il caso Cercello il carabiniere ucciso altro testimone altra versione scrive Corrado Zunino nella cronaca lasciamo Repubblica e come promesso approfondiamo i temi locali ricominciando dalle pagine interne del quotidiano del Sud c'è un'intervista politica è il momento di cambiare parla Mastella sindaco di Benevento un'area politica che guidi una opposizione contro l'eccitazione giustizialista del populismo evidentemente ci sono dei movimenti nell'area di centrodestra dove da Berlusconi ad altri si cerca di ricostruire un centro moderato mini cellulare in carcere quattro scoperti a Bellizzi la notizia è stata data dal sindacato ma facendo il punto si tratta della quarantesima scoperta in UNAM insomma sembra che i cellulari possano entrare nelle celle in maniera semplice al carcere di Bellizzi incendi 20 ettari finiscono in fumo 7 eroghi in Irpina un'altra giornata di fuoco in gran parte della provincia il comune più colpito Castelvetere fiumi di droga dalla Spagna 27 gli indagati dall'antimafia l'indagine della Guardia di Finanza di Avellino che coinvolge anche Sperone dove era stata scoperta la latitanza del boss lo russo rapidamente andiamo alle pagine che riguardano lo sport ci sono tutti gli appuntamenti del cartellone estivo approfondimenti anche nel corso del nostro telegiornale con la bacheca e il dove andare stasera grande successo si registra per il ferragosto avellinese con centinaia di migliaia di presenze ogni sera l'avellino stringe per Rossetti Morero e Di Paolo Antonio tra oggi e domani daranno una risposta a Di Somma il mercato comincia una settimana decisiva per i tasselli da inserire in rosa Lupi al lavoro si aggrega Palmisano secondo giorno in archivio per la truppa Irpina e poi c'è la pagina dedicata al basket scandone tra rebus e incontri la settimana in arrivo appare campale per il futuro della palla spicchi ferma la volontà della tifoseria e del sindaco per ripartire di nuovo restano aperti i discorsi con alcuni sponsor il tutto passa attraverso il placet di De Cesare che resta trincerato nel silenzio del suo ufficio di Napoli per guardare alla casa madre e lasciamo il quotidiano del sud andiamo ad approfondire le pagine interne del mattino di Avellino che ci ricorda essere oggi Santusvaldo fondi pix il comune ottiene altri 6 milioni l'assessore di Falco firma oggi l'accordo in regione entro 10 giorni pubblicheremo i primi bandi per un milione e mezzo il Victor Hugo e ancora restauro del Palazzotto quindi il sistema d'accesso integrato alla Smart City da Corso Umberto fino al Largo Santo Spirito un milione e sei per la Porta Ovest riqualificazione energetica di Viale Italia sono alcuni dei capitoli di spesa per la progettazione qui invece siamo ai lavori in corso e questa è una buona notizia soprattutto per gli studenti e le famiglie degli studenti del liceo Mancini lavori quasi finiti alla palestra più vicino il dissequestro dell'istituto la provincia potrà chiedere la riapertura della scuola ormai off limits da quasi due anni l'apertura del quotidiano il mattino edizione di Avellino è dedicata lo dicevamo al bando per 50 autisti cascone sono necessari non è una mossa elettorale il consigliere risponde al sindacato vantaggi per chi ha già lavorato gara per l'appalto decennale l'ANAC l'ATI locale può partecipare dovrebbero esserci così degli acquisti per autobus prodotti a flumeri chissà quando chissà come perché poi si apre il capitolo dell'avvertenza nella selezione pubblica questo per quanto riguarda gli autisti andranno più punti a coloro che hanno già lavorato per aziende di trasporto di qui la preoccupazione diciamo così del sindacato rispetto al fatto che si tratti di un concorso in qualche modo già blindato la risposta l'avete letta del consigliere cascone verrà premiato ci sono dei vantaggi per chi ha già lavorato il tema dell'autonomia differenziata per la Lega è un'opportunità per il Sud così il segretario provinciale Morano e rapidamente roghi nei boschi in fumo 20 ettari l'aria più colpita dalle fiamme Castelvetere due incendi in zone periferiche di San Mango altre tre persone sono state denunciate a Domicella e Monteforte per aver bruciato illegalmente rifiuti elezioni ordine degli avvocati sono in arrivo nuovi reclami a settembre la scelta del presidente in Lizza ci sono Barra Pizza Tecce Freda e Picciocchi per l'ordine degli avvocati ancora strascichi altri reclami potrebbero essere proposti al Consiglio Nazionale Forense per contestare alcune candidature non c'è pace per gli avvocati comunità montana Ufita corsa tre per il vertice e vediamo di chi si tratta non è un mistero scrive Vincenzo Grasso a concorrere per la carica di presidente della comunità montana dell'Ufita sono almeno in tre il sindaco di Vallata Leone il sindaco di Montaguto Zecchino il presidente oscente Carmine Famiglietti sempre a Montaguto questa è una buona notizia si inaugura la sede della Guardia Medica nel pomeriggio alle 17 e siamo anche qui allo sport Morero e Di Paolo arriva in prova Palmisano per l'Avellino mentre Morero e Di Paolo Antonio sono a rischio perché presto detto il Taranto sta allestendo una corazzata in Serie D ha fatto un'offerta molto vantaggiosa ai giocatori irpini insomma però è convinto di chiudere in giornata l'ingaggio dei due che avranno un ruolo importante nella futura squadra tramonta definitivamente la pista Eusepi che si è accasato con l'Atalanta e chiudiamo qui la rassegna stampa flash naturalmente dandovi appuntamento al Tg delle 14 per tutte le notizie in tempo reale vi invitiamo a consultare il sito primatv.it e a mettere mi piace sotto le nostre pagine social di Prima TV e Tele Nostra per essere aggiornati in tempo reale su ciò che accade su tutto quanto è informazione cultura eventi tanti in questa calda estate grazie a Silvana Piccarillo in regia grazie a voi per l'attenzione a più tardi se lo vorrete grazie a tutti